Un ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo appuntamento con Centri Medici Fisio Italia. Sono in compagnia del titolare Nicola Ruggeri che ormai avete imparato a conoscere. Ciao Nicola. Ciao Rosi, grazie per questo nuovo appuntamento. Che cosa ci racconti oggi? Fra l'altro abbiamo anche due ospiti, ve li presenteremo fra poco. Sì, nell'ottica del lavoro di squadra, tu sai che per me è fondamentale che un paziente si è visto da più punti di vista. Nel lavoro di squadra oggi ho invitato un paio di professionisti che lavorano da noi, un ortopedico che è il dottor Antonio Di Giovanni e una biologa nutrizionista che è la dottoressa Ilaria Boaria. Con loro lavoriamo con pazienti di ogni età, di ogni genere, di ogni patologia. E loro hanno uno dei compiti fondamentali. Il paziente visto da più punti di vista vuol dire che non solo arriva nei nostri studi per essere riabilitato, fa la fisioterapia, due massaggi e se ne va. Il lavoro deve essere visto da un punto di vista manuale, da un punto di vista strumentale e da un punto di vista che definisco di riabilitazione vera e propria, che è la riabilitazione attiva, la riabilitazione del movimento. E qui entrano in gioco effettivamente altri professionisti. Arriva il posturologo, arriva il kinesiologo, c'è l'osteopata, il massoterapista, oltre ovviamente al fisioterapista. Queste figure professionali concorrono tutte nella stesura del piano riabilitativo. Stesura del piano riabilitativo che viene ovviamente discussa con i professionisti, con gli ortopedici, con il fisiatra, con i nutrizionisti che ci sono nella struttura. E allora, nel presentarti, dottor Antonio Di Giovanni, che è un medico ortopedico e che ho il piacere di avere accanto a me nella nostra struttura, gli faccio io una domanda. Faccio io, Rosy, di turno. Dottore, allora, quando la riabilitazione non basta più, quando c'è un'artrosi d'anca o di ginocchio talmente forte che il trattamento conservativo non permette più una ripresa e una restituzione, vuole raccontarci quali sono i rimedi? Certamente. Ti ringrazio per la domanda, visto che mi occupo di chirurgia dell'anca e del ginocchio già da molti anni. Facciamo la premessa. La patologia dell'anca e del ginocchio artrosica è una patologia degenerativa, quindi determina un'usura della cartilagine articolare e quindi un'invalidità molto importante per il paziente nel compiere tutte quelle che sono le attività quotidiane. E quindi è un paziente che ha necessità di cure che vanno appunto dalla fisioterapia e quando questa non funziona, quando non funziona la terapia infiltrativa, si passa appunto alla fase chirurgica. Fase chirurgica che appunto consiste nell'andare a sostituire l'articolazione con un dispositivo protesico. Io so che, la interrompo, ma so che nella vostra clinica, con la sua equip, avete degli interventi particolarmente nuovi, innovativi, ma anche veloci. Esatto. Nella mia unità operativa, che è appunto l'ortopedia 10 della città di Brescia, adottiamo un protocollo che è chiamato protocollo Fast Track Surgery, che è un protocollo mini-invasivo, multidisciplinare e che vede coinvolti tutte le figure personali sanitarie che entrano appunto in contatto col paziente, quindi il fisioterapista, l'ortopedico chirurgo, l'anestesista, l'infermiere e appunto il fisiatra. Tutte queste figure adottano un approccio multidisciplinare mini-invasivo, quindi ad esempio la nostra tecnica chirurgica, una tecnica mini-invasiva, che vede il risparmio dei tessuti muscolari. E quindi una riabilitazione più veloce? E quindi una riabilitazione più veloce, tant'è vero che i tempi di degenza, se un tempo erano lunghi, tipo 7-8 giorni, adesso andiamo a una degenza di 3-4 giorni, quindi un paziente che torna a casa abbastanza rapidamente. Quindi meno danno, più rapida la ripresa e meno dolore. E il paziente che torna a casa abbastanza rapidamente, nel suo ambiente domestico, che è una cosa positiva per lui. Grazie. Prego. Capisci, Rosi, perché cerchiamo certi professionisti? Assolutamente sì. Nell'ambito di questo discorso, io credo, insomma parlo anche per me stessa, che bisogna magari perdere un po' di peso, prima di fare una protesi, un intervento di questo genere, o anche solo per rendere un po' meno doloroso il camminare. e a questo proposito hai qui un ospite che pensa proprio a questo. Sì. Guarda, ti lascio il posto, vai accanto a lei. Allora l'ho intervisto io. Vai. È la dottoressa biologa e nutrizionista, Ilaria Boaria, anche con lei da tanti anni, possiamo dire, abbiamo una collaborazione professionale, e con ottimi risultati. Effettivamente, come diceva Rosi, ma anche il medico prima, per, diciamo, ottimizzare un intervento protesico, è chiaro che la scoperta dell'acqua calda, un'articolazione, meno peso porta, meglio è. La nutrizione e comunque un controllo del peso non entra però solo in gioco quando si tratta di protesi, ma anche quando si tratta proprio di salute e di stato di forma, ok? E quindi tanti ancora si improvvisano con un fai da te e in una situazione nella quale magari perdono più massa magra e non perdono massa grassa, cioè l'esatto contrario di quello che dovrebbe succedere. Buonasera a tutti. Sì, nell'ambito della nutrizione, nei vari ambiti in cui si può applicare appunto un approccio nutrizionale, anche quello che abbiamo appena trattato, insomma, di protesi, di interventi chirurgici, è molto importante considerare l'alimentazione, sia in una fase di pre-intervento, di post-intervento, ma anche in linea generale di corretto stile di vita. Come diceva Nicola, in fase di problematiche appunto all'Anca, ad esempio, su un'articolazione, l'eccesso di peso può creare problemi appunto di sovraccarico, ma soprattutto nel post-intervento, il discorso di gestione della massa grassa, di evitare la perdita di massa magra è fondamentale. Se pensiamo che un paziente post-intervento, per forza di cose, deve anche restare più fermo, quindi ha meno possibilità di movimento, è fondamentale per un ottimale recupero intervenire su questo, come su qualsiasi percorso di dimagrimento. E' ottimale appunto prevedere un percorso indirizzato su una perdita di massa grassa. Quindi mi confermi che non c'è un range di età nel quale uno stile di vita e soprattutto uno stile alimentare deve essere condotto. Cioè, tutti possono andare da un nutrizionista? Assolutamente. Anzi, più si va avanti anche con l'età, ovviamente per ogni categoria di età ci sono delle indicazioni che possono avere una certa variabilità. In particolare, più si va avanti con l'età, bisogna sempre fare maggiore attenzione anche in ambito nutrizionale, perché fisiologicamente avviene una perdita a livello di forza muscolare e appunto per questo bisogna, diciamo, sorvolare su questa problematica. La valutazione appunto di quella che è la massa grassa e la massa magra come viene effettuata attraverso l'impiego di una bioimpedenziometria che è una strumentazione utilizzata appunto in ambulatorio per misurare appunto in percentuali queste masse di composizione corporea. Nicola, qui ci sarebbe da parlare un'ora ma sicuramente ci arriveremo a fare qualcosa in più in modo da darti la possibilità di far vedere davvero che cos'è Fisio Italia. Intanto sottolineiamo una cosa, siete cresciuti. Siamo cresciuti in famiglia. Eh sì, siete cresciuti in famiglia. Sì, tant'è vero che siamo affiliati con un centro in città a Brescia e anche in provincia di Bergamo per dare la possibilità a tutti i nostri ascoltatori di arrivare ai centri medici Fisio Italia e di arrivare ad un approccio multidisciplinare come quello che abbiamo raccontato oggi con il dottor Di Giovanni che nella sua intervista non potevamo dirlo, ma è un ortopedico molto importante un protesico bravissimo di cui sono veramente orgoglioso di avere e con la dettoressa Buaria perché dovevo per tanti anni collaboriamo. Questi centri la finalità è sempre la medesima quella di mettere il paziente al centro del programma riabilitativo. Riabilitativo non significa fisioterapia o meglio, non solo fisioterapia. Riabilitativo significa riabilitare ad uno stato di salute ottimale quindi nei centri Fisio Italia e oggi posso dire nei nei infatti non è più un centro nei centri andiamo proprio alla ricerca della salute in un approccio multidisciplinare. Bene, questo mi sembra molto importante è un discorso, ecco andate a cercarvi anche le altre puntate che abbiamo registrato perché è un discorso che hai fatto molto ampiamente soprattutto nella prima trasmissione spiegando proprio che il cliente in questo caso il paziente è al centro proprio di tutto perciò c'è un approccio appunto da più specialisti in modo da dare veramente un servizio completo quindi non solo una riabilitazione ma molto di più e questo è importante. E poi come hai visto specialisti con i quali è bello parlare è un linguaggio semplice spiegano bene al paziente tutti, eh oggi sono con loro ma noi siamo qui sicuramente più di 20 e tutti parlano un linguaggio vicino alla gente che tutti possono capire non esiste qualcuno che deve tornare a casa e non ha capito bene né quello che ha né quello che deve fare e questo è diciamo il nostro filo conduttore è quello che voglio trasmettere anche ai centri che sono nostri affinati. Certo, mi sembra di aver capito che insomma quello che è la tua filosofia perché poi comunque è la tua filosofia la stai facendo la stai così dividendo la stai condividendo con anche gli altri centri e questo mi sembra molto importante per voi appunto che avete bisogno di questi servizi quindi chiamate venite personalmente informate vi andate a cercare informazioni sul sito insomma basta dobbiamo salutare ciao Nicola alla prossima grazie ai tuoi ospiti e vi aspettiamo naturalmente qui in Fisio Italia ciao ciao